Fatemi fare i cartoni animati comici. Io so fare anche le vocette, i cartoni. Come ho iniziato? Allora, io ho cominciato a parlare a un microfono, avevo 14 anni, però erano i microfoni di una radio, della mia città natale, Cosenza. Io vengo da lì. Arrivati a 18 anni, il momento del diploma, ho capito che la dimensione dello speaker non era proprio quello che volevo fare. Anche perché avevo fatto un po' di teatro amatoriale proprio durante gli anni di liceo ed ero affascinato già da molti anni dal fatto che quando guardavo un film, qualsiasi film, qualsiasi serie televisiva, mi piaceva pensare che dietro a questi attori americani, tedeschi che parlavano, ce ne fossero altri italiani che parlavano. Allora, fui incuriosito dal mondo delle voci. Quando arrivai a Roma, decisi che volevo accostarmi al mondo dei doppiatoni. E così ho cominciato a frequentare gli studi, grazie a una conoscenza, e ho cominciato a parlare con loro. Quindi per me era emozionante, per esempio, poter parlare in realtà con la voce di Gesù di Nazareth, che fu in assoluto il primo direttore che mi aiutò a cominciare a fare il lavoro. Stiamo parlando di Pinocolizzi. Dopodiché arrivarono anche gli altri, perché agganciandomi a lui inizialmente con i turni, ebbi modo di fare le prime collaborazioni con il gruppo 30, che era la società di Renato Izzo, nell'epoca. Quindi stavano in questo villone bellissimo ai Parioli. E quando tu entravai in questa sala c'erano veramente il top del top del doppiaggio. Voci come Rinaldi, per esempio, che ti passava davanti per prendere il caffè. Lo stesso Renato, Rossella, c'era gente veramente in gamba. Tu pensavi che sono finito veramente... ho fatto 13, come si direbbe. Ho cominciato con loro. Contemporaneamente ho fatto i primi turni anche con la Cdc. Diciamo che il primo turno, di cui ho un ricordo eccezionale, lo feci con Pino Locchi, con il quale ho seguito il doppiaggio proprio agli inizi. Andavo a seguire i suoi turni e un giorno mi chiese di fare una piccola cosina, ma proprio per farmi provare, perché io all'epoca non riuscivo a spiccicare veramente parola. Tra l'altro quando ti trovavi davanti a questi mostri sacri del doppiaggio, veramente ti tremavano le gambe. Erano le voci che tu avevi sentito nei film. Pino Locchi, Sean Connery, 007, Roger Moore e così altri, insomma. Io adesso parlo di loro perché sono quelli con i quali io mi sono trovato più a contatto rispetto che con altri. Poi pian piano ovviamente ho conosciuto anche gli altri. Allora, intanto c'è da dire una cosa. Questo fa parte delle fortune che possono capitare a qualcuno. Io sono arrivato al doppiaggio tra l'85 e l'86. Quindi mi sono proiettato nel mondo dei doppiatori, se vogliamo dirlo in termini generazionali, tra la quarta e la quinta generazione di doppiatori, che in quel momento erano suddivisi più o meno in tre grosse società, diciamo quattro società, la CBC, il Gruppo 30, la CVD e la SAS. In queste poche quattro società, in quegli anni, tu trovavi veramente, come dicevo, il big del doppiaggio. Cioè la gente che aveva appreso dai suoi maestri precedenti e che quindi ti poteva insegnare qualcosa. Quando tu facevi anche un semplice turno di Brusio, per esempio, diretto da Peppino Rinaldi, tu imparavi perché bastava sentire la sua voce, le sue intonazioni, per capire che dietro quella voce e quelle intonazioni c'era forse la più grande scuola di recitazione d'Italia, che poi era quella che aveva prestato le sue voci ai più grandi film. Quindi io, per dirti, a prescindere dagli inizi che tutti quanti noi dobbiamo affrontare, ho avuto questa grande fortuna di arrivare in quel mondo, in un momento in cui c'era bisogno di nuove voci, e c'erano questi maestri, maestri veri proprio, dell'artigianato, il mondo del doppiaggio come artigianalità, intesa nel senso di creare arte. Sono stati veramente maestri da cui apprendere. Bastava, ripeto, un turno con Colizzi, un turno con Locchi, un turno con Rinaldi o con Renato, per fare scuola. Quindi ti hanno lasciato veramente questo imprinting di opera d'arte. Io ricordo di una serie che sicuramente vi ricordate, che è stata una delle prime serie che ho fatto come comprimario, dove c'erano tantissimi personaggi. E sto parlando di Twin Peaks, i segreti di Twin Peaks, che recentemente poi tra l'altro è stata riedizionata. a parte il capolavoro di quella impresa, io adoro David Lynch, quella serie finì come doppiaggio, come edizione italiana, al gruppo 30 e la dirigeva Renato Itz in persona. Io avevo 25 anni. Quando io entravo in sala per doppiare il mio Andy Brennan, il poliziotto stupido che faceva un sacco di cavolate, la mia, chiamiamola così, coinquilina di regio era quasi sempre la Rinaldi, Antonella, perché i nostri due personaggi erano innamorati nella serie. Quindi spesso facevamo i turni insieme. E infatti è la cosa famosa, insomma, che in questi anni si lavorava insieme. Era difficile avere delle colonne separate. Si lavorava in maniera completamente diversa da come si lavora oggi. E c'era da parte del direttore la possibilità di lavorare molto sull'intonazione perché c'erano almeno anelli a turno. Quindi il lavoro era molto più lento, di oggi, quindi molto più preciso. Io ricordo che quando entravo in sala con Renato non si facevano mai più di dieci anelli a turno. Oggi sarebbe impensabile. E non era mai, mai buona neanche la terza. Quindi questo deve far capire più o meno come funzionava. Io non vorrei adesso innescare una politica. Il grosso errore che noi abbiamo fatto da un certo momento in poi è stato permettere ai clienti di poter mettere bocca su tutto. Quindi anche sull'ennesima intonazione, sulla voce, sull'uso della voce, la presenza, il mix, eccetera, eccetera. Ci sono situazioni evidenti in cui alcune persone del non mestiere, quindi né doppiatori, né tecnici, né fonici, né assistenti, chi non è del mestiere, si è permesso di giudicare delle situazioni difficilissime. Ricordo che stavo facendo un film con Tonino, appunto, bellissimo tra l'altro, un film di Terence Malick che si chiama La Sottile Linea Rossa, che forse qualcuno di voi ha visto. Io doppiavo un attore che spesso ho doppiato io, che facevano dei soldati. Allora, la scena più o meno era questa. Durante una scena di battaglia, il cliente che era in sala insieme a Tonino, faceva notare a Tonino che un attore che stava per morire, perché colpito a morte, in punto di morte diceva una battuta. Gli fece notare che la battuta non era chiara. Tonino giustamente andò su tutte le furie e disse mi devi spiegare una cosa, ma un proiettile viaggia a 700 km orari, se ti prende in pieno e tu stai per morire, ma come diavolo faccio io a essere chiaro, a dire questa battuta? Com'è possibile dire chiara la battuta, supponiamo che fosse sto morendo, ma com'è possibile che uno che stia per morire dice chiaramente sto morendo? Non sarà mai possibile. Ecco, il cliente pretendeva più o meno questo. Questo per dire che molto spesso sono proprio loro che si oppongono a questa scuola grossa che noi abbiamo sempre avuta, la quale stiamo sgradevolmente rinunciando, secondo me, che è quella della recitazione vera. I doppiatori sono, secondo me, lo dico senza falsa modestia, degli attori a volte più bravi degli attori di presa diretta, perché innanzitutto anche nello spork, le cosiddette spork, lo dico all'abbreviazione, perché sono le nostre abbreviazioni di copione, la spork, tu la senti chiara? Noi le facciamo le spork macchiare, le facciamo sentire. Molto spesso nelle prese dirette, anche di roba italiana, mi dispiace dirlo, la sporca o non sporca è sempre sporca, non si capisce niente di quello che dicono, niente, è un sussurrare continuo. Allora, rinunciare alle nostre qualità, e io penso che questa sia veramente una grande qualità, quella che riconosco a me stesso, ai miei colleghi, di poter dare emozioni a personaggi che sono in televisione, stando praticamente fermi davanti a un leggio. Piangere, ridere, fare il fiatone, far finta di correre, quando un personaggio corre e noi gli stiamo dietro con la voce, noi non stiamo correndo, siamo fermi. Eppure tu senti una voce che corre, tu senti una voce che si muove. Ecco, ci stanno facendo rinunciare anche a questo. E questo è veramente, come dicevi tu, anche perché poi la battuta non è più assincrono se va con l'abbiale, è assincrono se finisce giusta con l'originale. questo mettere in fila le onde, no, le clip audio per vedere se combaciano. Trovo un tecnicismo inutile. Cioè, è come se tu ammazzassi il primo pensiero, l'arte è vera. Ecco, sì, diciamo non soltanto uno. Io, essendo una voce maschile, chiaramente ho appreso da quelli che ritengo essere stati tre grandi doppiatori, tre grandi direttori. Renato innanzitutto, perché in un certo senso mi ha svezzato, proprio mi ha dato i Natali, mettendomi, distribuendomi in questa, in questa serie bellissima nella quale mi trovai e di cui ancora servo un ottimo ricordo, perché tra l'altro era una persona dedita anche all'allevare queste nuove leve che entravano in sala. Poi sicuramente un altro, per me grande maestro, è stato proprio Pino Locchi, perché sentendolo mi piaceva proprio come recitava, come dava colore alle battute. in un certo senso ho cercato anche di rubare nella sua involontaria scuola quello che si può imparare da un grande attore, un grande direttore. Colizzi sicuramente, certamente uno dei più grandi, ecco, più o meno quelli con cui ho lavorato io. Negli ultimi anni, o meglio, un po' dopo, quando già ero diventato una pedina un pochino più importante, sicuramente un altro che mi ha dato tanto dal punto degli statisti, perché purtroppo oggi non c'è più, è Tonino. Io ho fatto dal 92 al 2002, nove anni più o meno, ho fatto quasi sempre soltanto cinema con lui, con la sua società. E anche da lì ho imparato una scuola un po' diversa, ma veramente Tonino è riuscito a tirare fuori da me delle cose che probabilmente neanche io sapevo di avere. Quelle famose quando ti senti dire da un direttore hai delle corde che tu non conosci, io le conosco e te le tirerò fuori. E' vero, perché ancora oggi quando viene proiettato qualche film dove io ho avuto piacere, l'onore anche di poter partecipare diretto da lui, mi viene sempre fatto qualche complimento. Queste sono cose che ti rimangono e ti rimangono perché te le ha date lui. Trovami una persona in questo settore che non sia controverso. Non ce ne so. Ecco, non dovevi fargli girare la mosca al naso, era un personaggio particolare come ce ne sono tanti altri perché siamo persone alla fine quindi non me la sento di attaccarlo. Io so soltanto che ho una persona che per qualche ritardo che faceva presentandosi al turno poi ti dava tanto sotto il profilo artistico. Io ho sempre cercato di filtrare le positività che questa persona mi ha dato perché me ne ha date tante ed è indiscutibile che io quando arrivavi da lui nel 92 era una cosa nel 2002 quando feci l'ultimo film con lui era un'altra cosa quindi ho acquistato e mi piace sempre riconoscere cioè trovare in chi ti dà qualcosa le positività cercando di non soffermarmi magari sulla nevrosi in più o il ritardo dato o magari un urlo in più Todino era per esempio una persona molto dura in cattedra quando stava dietro al vetro quindi dovevi stare sempre molto attento quando lavoravi quando io non me la sento di fare il castigamatti sinceramente Todino sicuramente era eccentrico come persona ma ha avuto anche moltissime qualità aveva tante qualità da offrire era un professionista innanzitutto a me piace pensare che ognuno di noi in questo settore ha le sue positività le sue negatività il suo carattere chi di noi non è un po' eccentrico nel nostro lavoro una grande persona secondo me mi ha lasciato tanto quindi non posso averne un ricordo negativo ecco questo è quello che voglio io in realtà non ho ricordi negativi di nessuno mi sono un po' staccato da alcune persone perché mi rendevo conto che erano persone che avevano come obiettivo solo quello di schiacciare un emergente chi fa questo mestiere comunque vuole emergere ha una forma di ambizione sua deve andare avanti e allora mi piace pensare che un direttore ti guidi anche se ti sgrida certe volte ma ti deve guidare un direttore che ti sgrida e basta dal mio punto di vista non lascia il tempo che trova io probabilmente inquadrato nella voce in un certo tipo di voce in un certo tipo di timbro è una vita che ho fatto sempre a questi tipi di personaggio quindi personaggi importanti questo mi fa piacere perché a me piace pensare di poter essere utile e scherzando scherzando dall'86 oggi sono passati tanti anni però guardandomi anche indietro il tipo di personaggio è sempre lo stesso è comunque una voce centrale abbastanza importante ora cattiva ora più buona Hamming certamente mi ha dato un buon ricordo intanto perché la serie è molto bella Better Call Saul è sicuramente una delle serie più belle prodotte negli ultimi tempi altrimenti non sarebbe uno spin off che tra l'altro è lo spin off di Breaking Bad il problema è sempre lo stesso noi facciamo questo lavoro parlo di noi spettacolo in questo momento non mi riferisco ai doppiatori vuoi fare spettacolo per fare industria vuoi fare spettacolo per fare arte è sempre quello il dilemma è inutile chiedere a Caravaggio fammi 40 quadri in due giorni perché non sarebbe Caravaggio quindi adesso chiaramente con le dovute differenze però ultimamente si predilige questa corsa alla produzione piuttosto che a fare un buon a fare un buon prodotto molto spesso poi non parliamo dei reality che lì ci sarebbe veramente da mettersi le mani le mani nei capelli il doppiaggio che nasce come mestiere artigianale quindi dove c'è una grande dedizione artistica la passione di costruire una colonna italiana su un film straniero e metterci anche del proprio non ci dimentichiamo che alcuni doppiaggi hanno letteralmente salvato pellicole scadenti sotto il profilo dell'originale facciamo prima riferimento a Tonino e in dubbio che Tonino regalò a Eddie Murphy per esempio una risata che Eddie Murphy in originale non ha quindi ha dato una comicità a quel personaggio maggiore ha colorato i Simpson eccetera quindi sì all'inizio era un mestiere sicuramente dove c'era una grossa forma di artigianalità c'era proprio una dedizione estrema al lavoro e soprattutto c'erano i tempi per poter scolpire questa opera d'arte e quindi fare una vera e propria opera d'arte soprattutto in un momento in cui non c'erano tutti i mezzi che ci sono oggi per lavorare quindi dove non c'era assolutamente questa capacità tecnologica che noi abbiamo oggi nei computer la possibilità per esempio di incidere un anello partendo dalla parola data e incastrarla una volta no una volta si ricominciava da capo ogni volta che si sbagliava perché non c'erano appunto i digitali oggi è diventato un mestiere forse più industriale che artigianale perché seppur noi cerchiamo in mille modi sempre di salvare l'arte che c'è nel mestiere purtroppo e questo mi vuole dirlo però è una verità da parte di chi ha bisogno del prodotto i tempi di lavorazione che ci vengono concessi sono sempre minori e purtroppo è minore anche il budget che ci viene dato per poter fare di un'opera il bene è come se tu chiedessi a un ragazzino dici guarda fai dieci copie di questo compito hai sei ore per copiare bene tutto e lui ti fa un bel lavoro ma se tu dice quel bambino fai dieci copie di questo lavoro in un'ora probabilmente le dieci copie sono pieni di errori perché la velocità di lavoro è talmente tanto alta oggi che non c'è più interazione non c'è più la voglia per esempio di seguirlo un attore quindi bastano per esempio delle intonazioni standard a volte soprattutto sul televisivo per chiudere l'opera io stesso certe volte mi chiedo perché mi vengono fatte passare certe battute che per me potevano essere rifatte per darle meglio ma mi rendo conto che non c'è tempo e poi personalmente secondo me il doppiaggio ha perso una grande opportunità che era quella di continuare a lavorare insieme quando tu fai un film nella scena del film non ci sei solo tu c'è interazione a meno che tu non stia facendo un monologo c'è un'interazione almeno con un altro attore quando ho cominciato a lavorare io c'era interazione tu lavoravi sempre con una persona a fianco a volte anche due a volte anche tre quattro oggi sempre più spesso chi doppia chi quindi il doppiatore che dà la voce a un attore è solo quindi molto spesso ad un orecchio attento molto attento chi ascolta si accorge della differenza di incisione tra le due persone che magari invece nel video stanno parlando insieme c'è la famosa battuta non ricordo di chi sia ma è eccezionale in cui uno dice all'altro sai sai devo dirti una cosa cosa? risponde l'altro è ovvio che lì c'è un errore di colonna separata quindi credo in questo senso che stia diventando si sia un po' industrializzato che ha tralasciato nel tempo delle necessità artistiche che invece dal mio punto di vista e per fortuna non soltanto dal mio erano e rimarranno sempre molto importanti il doppiaggio è molto cambiato negli ultimi tempi rispetto agli inizi partiamo dal presupposto che io non sono assolutamente un nostalgico quindi non mi sentirai io viaggio con i tempi nonostante i miei 54 anni però ti parlo anche di citofoli per esempio allora una sala di doppiaggio degli anni quando io ricordo sempre Twin Peaks che è questa grande serie fatta alla RTR l'anello era si chiama anello perché all'origine era proprio un pezzo di pellicolo lungo 8 metri della durata di massimo minuto ma massimo proprio unito ad anello tramite la coda quella coda dove ci sono i numeri che scorrono 3 2 1 quindi l'anello veniva montato su un proiettore e girava di continuo quindi quando finiva ricominciava questo perché? perché bisognava dare modo agli attori agli doppiatori di poter guardare la scena senza provarla la prima volta provandoci sopra la seconda volta poi facendo una prova muta e poi incidendo le take che erano necessarie per portare avanti il prodotto quindi quando io ho cominciato gli anelli dovevano essere letteralmente montati e smontati dal proiettore quindi finito di doppiare l'anello 52 per esempio e data come buona la registrazione da parte del direttore bisognava passare all'anello 53 intercorreva un tempo tecnico necessario al proiezionista che si trovava al piano di sopra per smontare l'anello precedente e montare il successivo quindi preparare la proiezione dell'anello dopo e qui interviene il famoso citofono io ricordo volentieri degli aneddoti in cui l'assistente citofonava proprio con un citofono proprio al proiezionista che stava di sopra e dice avvertimi quando l'anello è pronto tra un anello e l'altro spesso c'era non so il caffè del direttore una chiacchierata in più una sigaretta cioè c'erano dei tempi un pochino più umani oggi no oggi purtroppo noi siamo una vera e propria catena di montaggio perché con il digitale quindi con la tecnologia ha portato tante belle novità ma in questo senso ha portato la velocizzazione del lavoro quindi l'anello non è più un anello è un pezzettino di non so neanche come definirlo di memoria si salta avanti indietro con la moviola e si arriva all'anello nuovo in un attimo in un attimo si incide in un attimo si passa a quello successivo quindi a volte non c'è proprio letteralmente il tempo di respirare questo ha dato purtroppo alito anche all'inzeppimento nel piano di lavoro delle tre ore di turno più anelli quindi se per esempio negli anni 80 tu facevi 10 massimo 12 anelli a turno oggi arrivi anche a farne il doppio e questo purtroppo ha discapito come sempre della parte artistica poi ci sono particolari elaborazioni soprattutto quelle cinematografiche dove per esempio il direttore si impone dice ma guardate io più anelli a turno non posso fare quindi per favore datemi più turni e meno rigi a turno questo vale anche per gli attori però si tende oggi a comprimere vista la possibilità tecnica di poterlo fare si tende a comprimere la lavorazione cercando di fare in un turno quindi in tre ore quanti più anelli possibili e questo è un grande un grande demerito secondo me che ha acquisito il nostro mestiere ma ripeto non dipende da chi vuole lavorare dipende da chi dà il prodotto purtroppo il nostro mestiere è finito nelle mani dell'industria ci sono delle measure oggi chiamiamole così che offrono produzioni su produzioni su produzioni che devono essere finite in un tempo tecnico tecnico significa che per esigenze aziendali bisogna chiudere il prodotto in quel momento questo a discapito dell'arte poi è sempre a discapito dell'arte io ricordo negli anni 90 molto spesso quando arrivava la telefonata in segreteria perché non c'erano ancora i cellulari e quando ti arrivavano i messaggi in segreteria telefonica ti venivano dati dei turni da qui anche a 4 mesi quindi per esempio a maggio io ricordo che avevo già i turni per ottobre che oggi è impensabile perché oggi ti chiamano da un giorno all'altro noi abbiamo questo modo di dire sei libero ieri alle 9 che è proprio il classico del doppiatore guarda io lo dico sempre anche i miei colleghi fatemi fare i cartoni animati comici perché in realtà nasco come attore brillante poi ho questa faccia da serio che mi fregano e anche la voce molto importante che mi fregano quindi mi fanno fare sempre i cattivi i neri i neri li faccio tutti io il Foreman di Dr. House il Ben Warren di Resanatony e tanti altri io so fare anche le voce i cartoni fare tante cose ecco non me li fanno fare mai ultimamente mi piacerebbe proprio fare i cartoni cioè gli animali che parlano gli animali parlanti allora se tu hai modo o avrete modo di guardare un doppiaggio fatto negli anni 60 70 non è assolutamente vero che il doppiaggio di quel tempo ha un valore perché c'erano le voci di X di Kai di Seltron eccetera quello sicuramente perché erano veramente dei maestri anche di recitazione c'era anche un'altra attenzione quando tu sentivi una voce di un personaggio in una ripresa esterna nel doppiaggio noi sappiamo una voce in esterno quando parla si perde nell'aria si perde nei rumori del traffico piuttosto che della foresta piuttosto che di un albero il mare quindi dal punto di vista proprio delle frequenze della voce dello spettro delle frequenze la voce perde le basse le cosiddette frequenze basse e questo succede anche quando una voce si allontana dal punto fuoco macchina man mano che una voce si allontana perde la potenza in bassi in frequenze basse invece è vero quello che dice che oggi si sentono delle serie televisive doppiate anche malissimo perché le voci in esterno hanno la stessa identica presenza che hanno in un salotto in una cucina in una macchina qualunque sia l'ambiente in cui la voce si sta esibendo si sta tecnicamente sviluppando il cosiddetto inviluppo dell'onda il cosiddetto ADSR è uguale è identico quindi non c'è differenza tra il corpo di una voce in interno e il corpo di una voce in esterno ci sono per esempio degli errori di mix evidenti anche in alcune serie famose dove la colonna internazionale è troppo bassa rispetto ai dialoghi intendendo per colonna internazionale quella che noi chiamiamo in gergo ME music and effect musica effetti quella colonna è molto importante perché immerge la voce nell'ambiente circostante e molto spesso non si sente si sentono porte che si chiudono il rumore non lo senti si sentono portelloni della macchina a fianco a chi parla la voce è trombonica il rumore non si sente per niente una volta c'era molta più attenzione in queste cose nei film del passato la colonna totale dei dialoghi italiani più la ME era molto più amalgamata io ho cominciato la mia carriera con Twin Peaks praticamente è stata la prima grossa serie televisiva nella quale mi sono trovato dentro come comprimario Andy Brennan era questo poliziotto avrà avuto per 26 anni un po' scemo mi chiesero di farlo un po' all'astanlio infatti mi ricordo che Renato perché dirigeva lui mi diceva sempre stai attento Tony perché tu eri molto importante già a 26 anni cerca di farla un po' più schiacciata un po' più da scemotto e io ho imparato lì probabilmente a caratterizzare molto di più le cose mi chiesero guarda tu hai doppiato nel 90 il 91 la serie di Twin Peaks ho fatto sì guarda che il tuo personaggio torna nella nuova serie di Twin Peaks stai scherzando invece era vero invece era vero quindi dopo tanti anni io ho ritrovato lo stesso attore con i capelli bianchi io con i capelli bianchi ci siamo rincontrati ci siamo stretti la mano e ci siamo fatti gli altri turni insieme è stato molto emozionante perché dentro di me pensavo porca miseria io ho cominciato con lui e sono adesso non ho detto che ho finito però sto andando me lo ritrovo dopo tanti anni un'altra volta sulla mia strada e non è una cosa che è successa a tutti questo è per me è stato piacevolissimo è stata una cosa molto bella il cambiamento fa parte della vita quindi non possiamo sempre stare a dire che tutto ciò che è vecchio è meraviglioso e tutto quello che è nuovo fa schifo no se noi vogliamo continuare a dare qualità a questo mestiere dovremmo cercare di rispettare le regole fondamentali di chi ce l'ha insegnato le regole sono quelle quando noi doppiamo un'opera stiamo facendo un completamento di un'opera per fare in modo che in Italia si capisca innanzitutto che ancora diciamo che è una cosa molto gradita chiaramente a differenza del passato dove tu Sean Connery o lo sentivi con la voce di Pino Locchi o quella di un altro quelle poche rare volte o non lo ascoltavi oggi lo puoi scegliere un film puoi guardarlo in originale puoi guardarlo anche doppiato quindi a differenza degli scorsi anni c'è un cambiamento di fatto il doppiaggio che una volta era una necessità oggi è un servizio quindi chi cerca un servizio lo vorrebbe al top altrimenti preferisce poi dire mi guardo il tradotto in originale chi capisce l'inglese ci sono altri altri tipi di ambiente dove invece si predilige il tecnicismo a sfavore dell'arte e questo no perché il doppiatore altro non è che un attore italiano che presta la sua voce un attore europeo quindi o americano quindi la recitazione è il requisito di base dovrebbe essere quindi dovrebbe essere quella stella polare quel punto di riferimento dal quale non distaccarsi mai torno a dire molti dicono che il nostro settore è in crisi non sono non sono per tutto d'accordo su questo il nostro settore è in crisi come in crisi il settore dell'audiovisivo come in crisi il cinema e tanti altri prodotti che sono entrati in crisi quando è subentrato il più grosso mezzo di comunicazione mai esistito al mondo perché mette in contatto tutti con tutti che è internet quindi era impossibile che il nostro mondo non venisse attaccato io credo semplicemente che bisognerebbe cercare di trovare delle trattative più forti da parte nostra nei confronti del committente dire guardate noi facciamo questo mestiere a ognuno il suo voi ci date il lavoro da lavorare noi lavoriamo nella maniera migliore possibile ci lasciate carta bianca anche sull'uso la possibilità di chiamare x attori il mix eccetera eccetera e basta non ci date imposizioni su niente spesso per esempio il direttore ha domani legate anche sull'uso della voce da usare per doppiare un determinato personaggio e questa è la motivazione per cui spesso per esempio mai come oggi tu senti lo stesso attore doppiato da 7-8 voci diverse nella sua carriera una volta non era così che di norma una voce accompagnava sempre più o meno lo stesso attore per alcuni è rimasto lo stesso dictat però molti ci sono attori che doppiano tutti per esempio questo è poco piacevole anche nei confronti di chi ascolta anche perché molta gente si lamenta di queste cose ci sono state persone che hanno avuto difficoltà a riconoscere gli attori perché la stessa volta ne doppiava 8 oppure lo stesso attore era doppiato da 8 voci diverse questo è stato un altro grande handicap io essendo mi autogiudico essendo facente parte della vecchia scuola io amo l'adattamento così come veniva fatto per due ragioni la prima ragione è perché ci sono delle frasi prendiamo come esempio l'inglese che di norma è la lingua madre che maggiormente ci ha dato da mangiare in questi anni ci sono delle frasi che se tu le traduci dall'inglese in italiano non hanno alcun senso per cui per forza di cose tu devi stabilire un equivalente italiano idiomatico che ti dia la possibilità di far capire a chi sta ascoltando che cosa fai faccio un esempio per tutti piove a catinelle da noi vuol dire una cosa ben precisa in inglese si dice it's rain cat and dog allora se tu traduci sta piovendo cani e gatti in italiano o qualcosa di simile per stare fedele alla traduzione chi ti ascolta dall'Italia e dice ma che cosa che cosa stai dicendo ecco qui ci sono state una serie di polemiche fortissime bisognerebbe parlare con i dialoghisti per queste cose qui io ti dico la verità non mi sono mai opposto a in sala a traduzioni che erano al limite dello scandaloso proprio da questo punto di vista però alla domanda rispondo io facendo parte della versia a scuola ricordo di copioni e gregi che avevano una qualità di traduzione e di interpretazione del testo che non avevano uguali tradurre un testo secondo me non significa soltanto letteralmente tradurre quello che arriva da un altro paese ma significa rendere le frasi tradotte in un italiano comprensibile cioè qualcosa che è vicino alla nostra cultura che non tolga il senso della frase originale che sta in America in Germania nel paese di provenienza quindi assolutamente contrario alla traduzione letterale sempre più presente perché tra l'altro stiamo insegnando alle nuove generazioni ai nostri figli a parlare in italiano che non esiste molto spesso quindi stiamo secondo me in questo modo aprendo le porte a un grosso danno proprio culturale allora io non mi sono non ho mai fatto soltanto doppiaggio non ho vissuto sempre di pane e doppiaggio perché proprio come persona sono una persona molto curiosa e incuriosita da tantissime cose sia a livello di altre attività che a livello ludico io ho cominciato a suonare avevo 14 anni e a produrre musica mia che avevo 14 anni perché lavoravo in discoteca quindi è rimasta questa passione profonda della musica dance e quindi con un progetto tutto mio faccio produzione di musica dance che per il momento pubblico su internet e che sono disponibili e sulle piattaforme globali di vendita eccetera eccetera quindi fondamentalmente mi occupo di questo poi ultimamente mi è capitato di produrre sempre una web serie molto carina devo dire che parla un po' di retroscena di una ragazza che va a fare i provini e si imbatte solitamente poi nelle figure dei provolori di turno quindi faccio anche questo nel poi vabbè chiaramente ho la mia vita privata c'è un altro discorso il futuro di ogni cosa secondo me dipende da noi dipende da come lo mangiamo noi davanti io se continuiamo così non lo vedo meraviglioso noi doppiamo sempre di più persone che con l'arte non hanno niente a che vedere sono venditori di case piuttosto che cuochi piuttosto che master questo e master quell'altro quindi il grosso della loro sta arrivando purtroppo da questi prodotti e noi siamo legati a questi prodotti in un certo senso non ti puoi rifiutare quello è il lavoro poi chiaramente ci sono c'è il cinema il film eccetera il futuro del doppiaggio io lo vedo come un riequilibrarsi in base alle esigenze che il pubblico vuole parliamoci chiaro come dicevo prima in Italia come in tutti gli altri paesi del mondo essendo noi un paese in evoluzione il doppiaggio è ancora molto forte e non morirà mai però sicuramente dovremo fare i conti soprattutto per quanto riguarda alcuni prodotti di una grande fetta di italiani soprattutto di giovanissimi che impareranno prima o poi a guardare le cose in originale quindi probabilmente qualcuno comincerà a preferire il suono originale che per quanto un doppiaggio possa essere fatto bene è praticamente inimitabile quindi un doppiaggio per quanto possa essere fatto ad altissimi livelli non sarà mai come l'originale e lì sta tutto al gusto delle persone ci sono persone che magari vorranno vedere l'originale guarderanno quello quindi credo che il futuro del doppiaggio sia un entrare in contatto con questa realtà e rendersi conto che se una volta ripeto un film tu lo guardavi solo in italiano oggi c'è gente che preferisce guardarlo in un altro modo e quindi sarà un buon equilibrio tra queste due cose allora il doppiaggio è stato al di là di tutto un fenomeno che è nato come sappiamo bene con la nascita del cinema sonoro molti dicono che era legato al neorealismo molti altri dicono che era legato a un bruttissimo periodo storico nostro che era quello del regime lasciamo da parte l'inizio storico del mestiere però va tutelato perché indubbiamente ed è fuori di dubbio è stato un grande ausilio culturale per un'Italia che cresceva perché comunque è un mestiere che va avanti da tantissimi anni e che a molta gente ha insegnato anche a parlare a trovare il suono corretto delle parole inoltre è un mestiere che va tutelato perché è uno dei pochi mestieri dove chi ci lavora dentro parla in italiano l'italiano corretto quello che tu non senti quasi mai parlare perché l'Italia è fatta di ad essere buoni perché sono 20 ragioni è fatta da 20 dialetti quindi va tutelato perché unisce una lingua ti ricorda che esiste una lingua la nostra bellissima cosa molti dicono che è una lingua che sta morendo io non sono affatto d'accordo a tutti i fan di roba da doppiatori un carissimo saluto da parte di Tony Senzoni ciao 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 Grazie a tutti.